Per la rassegna flash di oggi, venerdì 11 novembre, su Notizie Lunti, capiamo con la notizia di Enrico Letta. Cano Enrico, ti rendi conto che il tuo PD non sa vincere? Non è vero che la sinistra sta tutta con Conte, migrazione e latino. Il dibattito sul tema è tornato ad essere quello del governo Conte Salvini. Industria col diretti, alimentare, cala del doppio. In Stata aumentano i prezzi, frena la fiducia dei consumatori e la produzione industriale. Per l'essere o melone in atto è indispensabile per la pace. Mosca pronti a discutere con l'Unione Europea. Questo è molto altro su Notizie in un clic. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna. Grazie ancora, Lorevana.